Altra vittoria per il Bayern Leverkusen, imbattuto ancora in una striscia lunghissima, più 13 punti in Bundesliga sul Bayern Monaco con Tuchel che infatti annuncia hanno vinto l'oro, non c'è più speranza, mancano 28 punti per la precisione ultime 7 gare, ma effettivamente con questo ruolino di marcia dell'Leverkusen, della squadra di Xabi Alonso, non c'è storia, saranno campioni di Germania per la prima volta nella loro storia detronizzando un Bayern campione da oltre un decennio. Vittoria 2-1 contro l'Offenheim passando in svantaggio che possiamo ripercorrere e raccontare attraverso le grafiche e i dati X-Value Soccerment. Il Pass Network e l'Expected Threat Hitmap vanno da 0 a 57, cioè fino al primo cambio di entrambe le squadre, ma sono comunque emblematiche. Anzi, andate a considerare gli ultimi minuti del Bayern Leverkusen, la Pass Network sarebbe stata ancora più intensa e avanzata. Un baricentro nella prima ora di gioco di 65 metri con un coinvolgimento davvero impressionante di tutti quanti i giocatori, una quantità e una qualità di passaggi veramente notevole con la capacità di far giocare tutti a calcio. Nessuno viene escluso dalla rete di costruzione con un modulo che è anche abbastanza chiaro. Contro, dall'altra parte, un Hoffenheim invece incapace di costruire in maniera consolidata, con una rete di passaggi abbastanza dispersiva e a tratti disorganizzata, ma comunque con un suo perché nonostante un baricentro a 42 metri. Cioè comunque una certa profondità di gioco e posizioni che tutto sommato possono anche favorire il fluire del pallone. Ovviamente a livello di X-Threat, cioè di aumento della probabilità di segnare con i passaggi e la conduzione palla nel corso del campo, l'intensità della heatmap dell'Hoffenheim è bassissima, mentre quella del Bayern Leverkusen è altissima sia come quantità che come posizionamento. 3.27 XG totali contro 0.62 con 34 tiri a 6 e vediamo anche che il Bayern Leverkusen è riuscito a superare i propri dati medi in alcuni parametri. Per esempio ha avuto un Expected Goals on Target di 2.7 che è altissimo e pensate è solo di poco superiore alla propria media stagionale ed è quasi il massimo della Bundesliga. Anche per quanto riguarda gli X-Threat 2.3 praticamente il massimo della Bundesliga come potete vedere dalla barra azzurra totalmente piena ma solo di poco superiore alla media del Bayern Leverkusen in questa stagione. Stessa cosa per il possesso palla e parliamo del 68% e del field tilt 83% cioè il possesso palla nel terzo offensivo che è solo di poco sopra la media del Bayern Leverkusen in questa stagione. Addirittura sotto media per quanto riguarda l'intensità del pressing con invece un'efficacia tutto sommato nella media e anche un PPDA più basso quindi un'intensità più alta di recupero del pallone che per il Bayern Leverkusen non è mai facile perché tenendo così tanto il possesso il PPDA cioè l'intensità, la frequenza di interventi difensivi per interrompere il gioco avversario e recuperare il pallone non può mai essere molto molto alta proprio perché il pallone ce l'ha quasi sempre il Leverkusen. Notevole anche il numero di tocchi nell'area avversaria e anche qui vedete con 69 sono solo di poco sopra la media e comunque con una quantità rispetto alla Bundesliga davvero impressionante, ingiocabile e ancora tutti quanti gli altri dati anche i passaggi lunghi guardate quanto pochi siano in percentuale e comunque la media sia fondamentalmente quella hanno forse fatto più cross del solito dall'altra parte ovviamente l'offenheim quasi nullo da tutti i punti di vista se non appunto per i passaggi lunghi e comunque un pochino di expected threat evidentemente conquistato proprio con i lanci lunghi. E come dicevo negli ultimi minuti il Bayer Leverkusen ha costruito qualcosa di impressionante vediamo infatti la expected threat timeline quindi durante la partita quanto il Bayer Leverkusen ha minuto per minuto aumentato il potenziale da gol e poi anche la scalata letteralmente la scalata degli XG nel corso della partita con un secondo tempo davvero impressionante. Anche i dati individuali ci dicono che addirittura Schick ha ottenuto da solo più non penalty XG ed è stato l'autore del gol decisivo di tutto l'offenheim in 90 minuti. E ancora possiamo vedere anche gli Xassist in azione manovrata dove sostanzialmente l'offenheim è presente solo con Tohumku mentre i dati dell'Everkusen sono impressionanti e il peggiore dei migliori tre è Adricon 0,56. Stesso discorso per gli XG netti ovvero questo dato Soccerment che si chiama XOVA e ancora andiamo a vedere nello specifico quali sono stati e con quale valore i migliori per aumento del potenziale appunto offensivo tra passaggi e conduzione. E vediamo Virz, Adli, Andrik ma anche Frimpong. Altro dato interessante che merita di essere menzionato in questo caso arrivati a questo punto dopo 27 gare di Bundesliga sempre su XValue Soccerment vediamo la mappa del gioco delle caratteristiche del Bayer Leverkusen rispetto alla Bundesliga e vediamo che è un Bayer Leverkusen che fa tutto di più e meglio vedete addirittura proprio al top cioè nessuno assolutamente meglio in nessun caso del Leverkusen per quanto riguarda field tilt, possession, goal conceded e shot conceded ma con un crollo all'indentro molto positivo per quanto riguarda long balls cioè praticamente il Leverkusen rispetto alla Bundesliga è quasi a 0% di percentuale di passaggi lunghi all'interno dell'economia del campionato anche per quanto riguarda la quantità di cross si è sotto media ma di poco. Una squadra meravigliosa e Xabi Alonso prima di questa gara ha annunciato ufficialmente che resterà sulla panchina anche la prossima stagione. L'allenatore più cercato al mondo in questo momento vuole continuare a offrire meraviglie e delizie con il suo Leverkusen plasmato da lui, una squadra che gioca un calcio fantastico e incredibilmente ma non ditelo a chi potrebbe rimanerci male oltre a giocare benissimo vincono anche le partite e sono imbattuti. Resta a questo punto solo da capire quando ci sarà la festa per il titolo. Grazie a tutti.